giovani fuori controllo vandalizzata anche una chiesa incinta e in fuga dall'ucraina partorirà a urbino il pane le rose primo evento di pesaro capitale della cultura a pesaro un parco dedicato alle vittime dell'immigrazione vuole a varese un importante balzo salvezza buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di rossini tv ben ritrovati a rossini news primo telegiornale della nostra settimana che in questo lunedì 21 marzo apriamo occupandoci di cronaca una cronaca che ci porta a nuovamente a aggiornare gli episodi di baby gang in città a pesaro un fenomeno davvero meritevole di riflessione questa volta ad essere vandalizzata è stata una chiesa la chiesa di villa san martino caro giovane che stai entrando per dare fastidio volevo solo dirti che nonostante tutto ti voglio bene forse non ti interessa ma ti prego non scappare cercami parliamo ti perdono ti voglio solo abbracciare dio ti ama pazzamente il cartello che abbiamo appena letto si trova all'ingresso della chiesa di villa san martino ed è un messaggio preciso rivolto a certi ragazzi che hanno gravitato attorno al quartiere negli ultimi giorni che sono stati protagonisti di un episodio davvero riprovevole sabato don lorenzo volponi parroco di villa san martino si è trovato davanti una scena che non si sarebbe mai aspettato gel igienizzanti ribaltati e spremuti ovunque sulle panchine gel quale è stato anche dato fuoco con fiamme che si stavano sviluppando che sono state subito sedate dall'intervento dei parrocchiani e anche cassette delle offerte di velte questo è stato l'ennesimo episodio di vandalismo giovanile che in città si sta ripetendo con una frequenza piuttosto inequietante nell'occasione specifica i ragazzi sono già stati identificati è stata fatta segnalazione alle forze dell'ordine e alla famiglia per un episodio che riguarda ragazzi che non hanno nemmeno 14 anni un episodio che si ripete e che si accanisce in qualche modo anche sulla sacralità perché ci siamo occupati anche nei mesi scorsi ad esempio dei vandalismi al cimitero centrale con tanti imbrattamenti di lapidi corridoi del cimitero san decenzio in questo caso sacralità profanata dai vandalismi dalle fiamme eppure dal furto di qualche offerta ma è una lista che si allunga quella delle cosiddette baby gang per mesi ne abbiamo parlato degli episodi susseguitisi in piazza redi dove sono pure arrivati degli arresti in questo caso si parla di under 14 e dunque non imputabili ma la serie si srotola anche a tanti altri episodi sparsi per la città vedi le aggressioni al parco scarpellini vedi le panchine sradicate in via dei frassini vedi soprattutto la vandalizzazione della sede del quartiere di vismara i cui tre responsabili figurano tra quelle degli otto minorenni denunciati per simili reati alla polizia locale fra il 2020 e il 2022 un report di micro criminalità giovanile esposto tra l'altro nell'ultimo consiglio comunale e dunque situazioni che si ripetono e che non hanno distinzione di quartiere villa san martino torraccia tombaccia vismara piazza redi ne abbiamo parlato tanto di questi episodi che riguardano ragazzini che riguardano spesso poco più che bambini difficile chiamarle bravate si tratta di un problema sociale sempre più meritevole di riflessione oggi è il primo giorno con le marche tornate in zona bianca ma se da un lato l'emergenza pandemica allenta la presa non mollano i controlli sulle norme anti covid nei pubblici esercizi i carabinieri di fa nel nucleo ispettorato del lavoro di pesaro hanno infatti chiuso per cinque giorni un locale di cagli molto frequentato dove sono state riscontrate violazioni alle norme igienico sanitarie e la non conformità del luogo di lavoro ai requisiti di sicurezza il gestore del locale è stato multato anche di 6.500 euro lo scorso venerdì ci siamo occupati dei numeri dell'emergenza ucraina sul nostro territorio dove sono arrivati circa 700 profughi di cui la metà bambini a cagli però è arrivata anche una giovane donna incinta e con un figlio di due anni dopo un viaggio in pullman estenuante di circa 30 ore il reparto di ginecologia dell'ospedale di urbino ha dato piena disponibilità a seguire la donna durante tutta la gravidanza ieri la giovane mamma è stata visitata con il supporto di una mediatrice culturale che anche la persona che la sta ospitando lei e il nascituro stando bene nonostante la terribile esperienza e dalle notizie di speranza dell'ospedale di urbino al dramma che si è consumato ieri all'ospedale santa croce di effano dove la 57enne roberta curina si è recata ieri dopo giorni di forti dolori alle piede dopo i primi esami al pronto soccorso però la donna si è sentita male ed è deceduta nonostante i tentativi di rianimazione dei medici ora ci sono gli accertamenti in corso compresa l'autopsia per capire le cause del decesso di una donna piuttosto nota in città nonché moglie di enzo ceglia titolare del ristorante bella napoli oggi 21 marzo è la giornata dedicata alla memoria delle vittime di mafia una data che pesaro ha già onorato ieri con la consegna del premio anti racket di 50 e più di conf commercio a nicola gratteri procuratore della repubblica presso il tribunale di catanzaro una giornata che tra l'altro ha visto anche le onorificenze emesse del lavoro di conf commercio che potrete approfondire in uno speciale che ha realizzato rossini tv e che verrà trasmesso domani alle 21 e 20 intanto in questo servizio ci occupiamo del premio proprio a gratteri le mafie hanno cambiato strategie le mafie non sparano e quindi se non sparano se non bruciano serrande se non bruciano macchine l'opinione pubblica è buona e tranquilla non si preoccupa e quindi il potere politico non è costretto a parlarne o a creare delle norme proporzionate alla realtà criminale e ai noi le mafie sono diventate ancora più furbe più intelligenti hanno capito bene che non bisogna sparare o sparare con parsimonia così siamo tutti tranquilli contenti e andiamo avanti dal punto di vista storico le mafie sono sempre presenti dove c'è da gestire denaro e potere mi auguro che che qui si faccia eccezione ma inviterei tutti a stare attenti il problema è grosso perché noi abbiamo visto la facilità con la quale ad esempio col 110 quanti soldi sono riusciti a truffare il reato di truffa aggravata prevede una prena molto bassa facilmente sono reati che sono senza detenuti quindi sono processi che vanno in coda che non si celebrano quindi i truffatori di certo non si tireranno indietro e non sarà di certo un deterrente queste riforme che sono state fatte da questo governo anzi al contrario il diciannovesimo premio in questo senso l'abbiamo dato negli anni a altri magistrati o a commercianti che hanno resistito al racket e si sono posti per continuare a vivere nella legalità contemporaneamente noi premiamo i maestri del commercio che sono i nostri commercianti operatori del turismo e dei servizi che hanno lavorato per 25 40 e 50 anni ecco questa giornata della legalità è la giornata che noi abbiniamo in qualche modo al lavoro al diritto al lavoro a farlo con serenità e a farlo soprattutto seguendo le regole il senso di questo premio di questa targa della solidarietà è quella di essere vicini tutto il nostro mondo a quelli che in prima linea difendono le leggi e fanno sì che la società possa andare avanti in maniera serena e tranquilla senza dover subire sopprusi da parte di qualcuno la proclamazione di pesaro capitale della cultura è stata celebrata sabato dalla città in un partecipato evento in centro storico che riviviamo in queste immagini e con la musica di diana pianista prodigio ucraina di appena nove anni sono state le note prodigiose di diana dvalishvili ad aprire la festa di sabato sera dedicata alla vittoria di pesaro capitale della cultura 2024 applausi per la bambina ucraina di nove anni in fuga da kharkiv e adottata artisticamente dal conservatorio di pesaro un'apertura in musica dagli alti valori simbolici umanitari che ha poi fatto salire sul palco di piazza della creatività al centro artivisive pescheria i protagonisti della città orchestra quelli che hanno reso possibile un percorso da vittoria a cominciare dal vice sindaco daniele vimini una giornata storica per la nostra città e per tutto il territorio che da oggi parte un viaggio nuovo insomma la responsabilità che abbiamo di fronte a tutto tutta la regione a tutto lo stato di fare valere al meglio il progetto che è stato premiato all'unimità della commissione e che ha fatto in modo che pesaro potesse diventare capitale della cultura per il 2024 e credo che la visibilità che potrà avere la città di pesaro in questi anni potrà essere un ottimo strumento di rivalza per tutta la nostra regione in una serata lietata anche dalla musica di clarissa vichi e dei bambini dell'asilo le voci dei tanti testimonian della candidatura tra cui angela scatigna moglie di massimo dolcini la giovane scrittrice giorgia righi e mattea fo figlia di dario fo e franca rame applausi per agostino ritano che dopo aver guidato la vittoria di procida a capitale della cultura 2022 ha fatto altrettanto con pesaro meritandosi di essere ribattezzato da ricci il cristiano ronaldo delle candidature un viaggio che è partito con grande semplicità con grande sobrietà e devo dire che l'elemento della sobrietà è stato l'elemento che ha caratterizzato questo questo percorso fra i tanti concetti esposti dal sindaco ricci la forte sottolineatura alla mentalità che ha portato alla vittoria ricordate quando lanciai questa idea la pesaro nazionale qualche anno fa era proprio questa idea l'idea di chi sa chi ha tanti problemi ma anche di chi sa che ha una grande potenzialità perché ha gente tosta che ha una forte cultura del fare e della solidarietà che ha dimostrato in tante fasi della storia di poter essere una delle parti migliori del nostro paese sempre però con l'orgoglio di chi è di provincia come siamo noi prima vi abbiamo ricordato che il 21 marzo è la giornata in memoria delle vittime di mafia ma il 21 marzo è anche la giornata mondiale della poesia una giornata che è stata celebrata questa mattina in centro con il pane e le rose primo vero evento di pesaro capitale della cultura che vi mostriamo in questo servizio a pochi giorni dalla proclamazione a capitale della cultura il primo appuntamento di pesaro capitale ha visto questa mattina il cuore del centro storico occupato dalla poesia merito del pane e le rose l'iniziativa che dal 2016 convoglia le scuole pesaresi nel 21 marzo giornata mondiale della poesia lirica in piazza poesia al san domenico a palazzo gradari e palazzo mazzolari sia in presenza che in video per un grande contenitore promosso dal liceo mengaroni e ideato dalla professoressa sonia marini il pane e le rose una manifestazione che nasce nel 2016 con l'idea di condividere la poesia sopra ogni distinzione anche di scuole e negli anni la cosa è diventata sempre più grande anno scorso siamo abbiamo fatto un evento online che è durato una settimana l'anno prima eravamo stati bloccati dal covi di quest'anno finalmente riusciamo a fare tutto in presenza l'idea è quella come recita anche il sottotitolo intrecci poetici o poesie in rete di unire tutte le scuole di pesaro e addirittura abbiamo anche una scuola di urbino il raffaello di urbino con grande piacere e condividere questa giornata di poesie bellissima iniziativa di sonia marini e del mengaroni noi abbiamo partecipato insieme alle altre scuole e anche perché a scuola all'interno del progetto biblioteca noi già da anni abbiamo attivato un laboratorio di poesia e e se prima serviva magari per aiutare i ragazzi ad esprimere le proprie emozioni i propri sentimenti tutto ciò che magari non riuscivano a dire con le parole diciamo consuete adesso devo dire che è diventato ancora più importante questo laboratorio di poesia dopo questi due anni di covide di pandemia e con questa guerra che è esplosa proprio alle porte di casa diciamo e perché i ragazzi effettivamente hanno veramente bisogno tanto bisogno di esternare tutta una serie di pensieri che che sono che abitano dentro di loro ed effettivamente lo sguardo sulle cose noi ad esempio prendiamo molto spunto dalla natura che c'è intorno a villa caprile quindi al parco san bartolo e lo sguardo è cambiato è cambiato è più triste e preoccupato e questo emerge tantissimo quest'anno è emerso tantissimo dalle loro poesie tant'è che infatti il laboratorio di poesia a scuola serve tantissimo proprio per creare benessere una grande giornata dedicata in questo caso alla bellezza delle parole ovvero la poesia una delle arti più nobili della comunicazione del sentiero umano oggi rappresentata benissimo da tutte le scuole in rete una grande occasione per lavorare su dei temi importanti sempre con la passione che le nostre scuole ci dimostrano giorno dopo giorno e oggi non posso che unirmi ai festeggiamenti e alla bellezza della poesia e se molti studenti erano in piazza per la giornata della poesia altrettanti erano in un parco di zona 5 torri a pesero per la intitolazione appunto di questa area verde in memoria delle vittime di tutte le migrazioni l'area verde di via milazzo zona 5 torri da oggi è stata ribattezzata parco 3 ottobre 2013 un parco dedicato a tutte le vittime delle migrazioni come ricordo una data che contrassegnò una terribile pagina della storia del mediterraneo con il naufragio di quasi 400 migranti che stavano per raggiungere lampedusa pesero ad oggi in prima memoria indelebile a quella pagina di storia attraverso un parco dedicato e che è stato intitolato alla presenza di autorità quali questore prefetto sindaco ma anche il direttore di avvenire marco tarquinio e il presidente dell'unione comunità islamica d'italia yassin la fram presente anche l'associazione libera nel 21 marzo dedicato alla lotta alle mafie presenti soprattutto gli studenti del liceo marconi veri ideatori e coordinatori delle progetto in una mattinata aperta dal concerto di alexandre lucien paul gioie il liceo marconi dal 2017 partecipa attivamente alle attività che vengono indette dal ministero dell'istruzione con un progetto che si chiama l'europa comincia lampedusa quindi dal 2017 che con gli studenti andiamo lampedusa e viviamo questa esperienza forte di formazione e portando ogni anno un gruppo di studenti che si va a formare con amnesty medici senza frontiere emergency tutte le varie realtà che lavorano e operano nel soccorso dei migranti da qualche anno il marconi è capofila a livello nazionale di questa progettualità e quindi coordina un po le attività e pertanto abbiamo deciso insieme alla giunta comunale insieme alla prefettura di intitolare questo parco a questa memoria che ormai è diventata una memoria significativa per la formazione degli studenti nel liceo in quella notte a lampedusa morirono quasi 400 nafreghi ma 155 si salvarono e 47 vennero soccorsi dalla barca di vito fiorino presente oggi a pesaro io con altri 7 amici fra i quali una mostra con una vostra residente qui a pesaro eravamo fuori in barca e ci siamo ritrovati coinvolti in questa in questa tragedia che ha segnato molto i nostri cuori e credo che ha segnato i cuori di tante persone questo è il mio impegno che mi sono proprio accollato di di seguire andare incontrare questi ragazzi nelle scuole per coinvolgerli in questa in questo bisogno di di amore nei confronti delle persone uguali a noi domani e mercoledì potrebbe mancare l'acqua dai ruminetti nella zona di pesaro e compresa tra il pentagono e santa veneranda a causa dei lavori di collegamento della nuova rete idrica da parte di marche multiservizi la mancata erogazione potrebbe verificarsi appunto domani 22 marzo dalle 8 e 30 alle 16 in strada pantano castagni e mercoledì 23 marzo dalle 8 e 30 alle 16 in via lino liviabella ora ci occupiamo nuovamente di eventi culturali in particolare di concerti perché venerdì 25 marzo al teatro sperimentale alle 21 l'appuntamento sarà con cristina donà un'artista che ha contribuito a definire una nuova stagione del rock di matrice mediterranea e una delle poche italiane capaci di rivaleggiare con le grandi colleghe che all'estero hanno reinventato il modello di interprete e autrice si tratta di un concerto inserito nella rassegna playlist promossa da amat e bpr banca non solo concerti ma anche grande danza la compagnia di daniel esralove coreografo che si distingue per un linguaggio fatto di invenzioni sempre nuove sorprendenti torna nelle marche con open una danza fatta di leggerezza gioiosità e sorpresa lo show è atteso da venerdì 25 a domenica 27 marzo al teatro della fortuna di fano nella stagione della fondazione teatro della fortuna in collaborazione con amat ed ora come ogni lunedì ampio spazio alle notizie sportive vittorie fondamentali per vl megabox vale foglia e ital service pesaro sconfitte nette invece per la vis pesaro nel calcio e per la fiorini pesaro nel rugby nona vittoria stagionale la seconda consecutiva che gonfia la classifica di due punti che assomigliano a due solidi mattoni verso la salvezza la carpegna prosciutto pesaro vince e convince a varese espugnando dopo sette anni il parquet lombardo col punteggio di 76 a 87 approccio giusto solidità e praticità per la soddisfazione di coach luca banchi per noi una importantissima vittoria in prospettiva al cammino che ci attende per riuscire a centrare la salvezza in un campionato così combattuto dove vedete come come le cosse possano cambiare repentinamente e dove ogni sera non ci sono pronostici scritti noi siamo riusciti a approcciare bene la partita soprattutto in attacco questo ci ha permesso di controllare abbastanza il ritmo però varese a queste caratteristiche devi avere la forza e la consistenza di resistere abbiamo sofferto la loro vehemenza al rimbalzo d'attacco nel primo tempo garantendo troppe seconde opportunità e poi nel secondo tempo qualche palla persa di troppo alcune delle quali a testimoniare la loro grande aggressività e non sempre la nostra prontezza a saper sfruttare le occasioni che quella aggressività ci dava ma io ritengo che nel complesso siamo riusciti a giocare 40 minuti di buona consistenza non era semplice trovando una squadra così in fiducia per quanto penalizzata dalle assenze e quindi riconosco alla squadra il merito di aver giocato anche con cinismo nel finale trovando protagonisti diversi capaci di trovare buone conclusioni in attacco e tenere a distanza il tentativo di rimonta di varese pesante vittoria salvezza anche nel volley dove la megabox valle foglia vince al tie break un match infinito per 2 a 3 in casa della savino del bene scandici nel calcio 5 di tal service invece già con la testa le fanali di coppa italia che inizieranno giovedì a salso maggiore contro il ciampino agniene una coppa alla quale la squadra di coach colini arriva da prima in classifica dopo la conferma della vittoria di venerdì per 2 a 1 contro i torinesi della l84 vittoria in rimonta decisa dai gol di salas ed oliveira sconfitta per la pesaro rugby che a roma invece cade 43 18 in casa della capolista unione rugby capitolina sconfitta netta e forse preventivabile invece per la vis pesaro che nel sabato al benelli assiste a una marcia trionfale della capolista modena che vince 3 a 0 una partita senza storia contrassegnata dalle reti di minesso mosti e scarsella sconfitta parte la vis si mantiene ottava in classifica e pensa alla prossima trasferta di carrara il modena oggi è stato superiore è troppo forte in questo momento loro vivevano un periodo diverso se si può chiamare così perché comunque venivano da da quattro punti in tre gare è una squadra che ha fatto questa cavalcata qui è normale che dopo questa flessione ti può sfoderare una partita importante come questa soprattutto dopo l'ultimo pareggio dove avevano finito vivendo una partita in forte equilibrio noi dobbiamo pensare di portare in campo dei contenuti per rimanere competitivi e subito fin dall'inizio avevo detto anche preparazione di partita il modena non è più quello dell'andata ti viene più aggressivo cerca perlomeno non di sbilanciarsi ma di non farti costruire gioco abbiamo abbiamo sicuramente peccato questa volta non in frenesia ma in precisione non c'è niente da dire abbiamo provato a rimanere dentro la partita fatto qualche cambio per di 3 a 0 in casa contro il modena dobbiamo solo pensare che adesso la nostra situazione di classifica non è cambiata dobbiamo ritornare a fare punti dopo due gare 0 punti siamo ancora lì l'avversario di domenica prossima sarà diverso e con lo sport concludiamo questa edizione del nostro telegiornale Rossini News come sempre vi ricordiamo qualche appuntamento a cominciare dalla nostra prima serata che oggi alle 21.20 sarà dedicata ad un approfondimento in ambito scolastico quello che vi mostreremo dall'istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro con il corso serale di Eno Gastronomia e Cucina e poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale anche domattina con la consueta rassegna stampa Buongiorno Rossini che vi tiene compagnia tutti i giorni dal lunedì al sabato sempre in diretta alle 7.20 Buongiorno Rossini di domani martedì che sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi e poi un'avvertenza importante insieme a Canestro non sarà al giovedì questa settimana ma sarà mercoledì 23 marzo sempre in diretta come tutte le altre puntate dunque insieme a Canestro cerca di non andare in conflitto con la partita dell'Italia di giovedì del giorno seguente dello spareggio per andare ai mondiali e si ritaglia dunque questa prima serata mercoledì 23 marzo nel salotto del nostro Marco Cadedu gli ospiti saranno Franco Arceci il nuovo presidente del consorzio Pesaro Basket e l'ex allenatore della VL Giorgio Secondini l'appuntamento è come sempre alle 21.20 e poi vi diamo anche un'anticipazione di venerdì 25 marzo perché alle 18.30 ci sarà un altro appuntamento con le sante messe in diretta trasmesse da Rossini TV una santa messa particolare perché si tratta della messa e preghiera di consacrazione al cuore immacolato di Maria della Russia e Ucraina per chiedere il dono della pace una funzione che tra l'altro sarà celebrata da Monsignor Piero Coccia arcivescovo uscente della diocesi di Pesaro che dal primo maggio lascerà spazio al nuovo arcivescovo Don Sandro Salvucci dunque segnatevi anche questo importante appuntamento venerdì 25 marzo alle 18.30 in diretta dal Duomo di Pesaro ed è davvero tutto per questa edizione dell'ETG ora ci sono le previsioni del tempo a me non resta altro che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di questa serata in compagnia dei nostri programmi